Gli invisibili che operano al Centro Operativo Comunale di Agrigento augurano buona Pasqua ed esortano tutti i cittadini a restare a casa. Da circa un mese e mezzo questo gruppo ha risposto a migliaia di chiamate per le registrazioni in quarantena, da chi soffre la fame a casa, da chi chiede informazioni diverse sull'emergenza, a chi non ce la fa più. Da questi uffici sono partite le determinazioni, le ordinanze sindacali, la programmazione della sanificazione cittadina, l'organizzazione del carrello sospeso e tanto altro. A loro va il mio ringraziamento per la determinazione, la serietà, l'impegno e incomiabile che hanno espresso. Lo ha scritto in una nota il dirigente del settore protezione civile del Comune di Agrigento, Francesco Vitellaro.